Io considero sempre questi incontri come incontri di lavoro, quindi do pochissima formalità, chi mi conosce sono pochissimi formali a questo punto di vista, da ogni incontro c'è sempre di tirare fuori qualcosa e quindi conflitto questa rassiglia sull'esterno con un altro punto che non è uscito fuori. Massimo Beccanello lo sa bene, ad esempio nell'ambito del cruscotto, dopo il lavoro sul cruscotto e la decarbonizzazione noi abbiamo posto il problema di finti dal punto di vista emissivo come uno parallelo a quello dell'agricoltura, abbiamo portato dentro alcuni tematismi che normalmente nella costruzione dei modelli complessivi, non dico che sono trascurati, ma sono comunque lasciati. Poi c'è la seconda parte, la seconda parte non è espressa, parte non è espressa io e parte non è espressa. No, non c'è parte. Noi abbiamo bisogno del mondo esterno. Non abbiamo bisogno del mondo esterno, ci aiuti a chiedere alle istituzioni e alla politica di dotarci di quegli strumenti per i quali possiamo svolgere questi lavori. Prima ho fatto l'accento al tracciamento dei rifiuti e quindi al superamento o all'affiancamento del mood come unico elemento, però mi rifaccio anche a tutti gli altri sistemi di monitoraggio fisici o no, fisici, no? Che sono necessari per lo svolgimento del nostro momento. Noi ce la mettiamo tutta. Prego, venite qua. Venite qua. Volevo qua. Le caratteristiche. Le caratteristiche. E mi sento anche di tutti. Allora, il punto centrale è poi ce la metteremo tutta nel rialzare interamente il livello della qualità, diciamo, il tempismo col quale presentiamo in Dara, però abbiamo bisogno di sostanzialmente il vostro evitato per invece affermare ciò che ci manca verso l'esterno. Io ho fatto grandissima pratica in questi sei anni con l'esplosato, presentando i vendamenti con l'esplosato e la Camera, in cui non sono riusciti a dire, non sono riusciti a dare ora, non si sono trasformati in atto legislativo e oggi questo paese, ad esempio, c'è una qualità delle acque a una densità di 1200 punti di rievo che è concentrata all'80% nel centro nord, anzi c'è la regione, non esiste le cure, quindi abbiamo una disparità, diciamo, di osservazione, quindi poi di sintesi complessiva, della quale non possiamo più dare. Secondo punto, sottolineato se l'Avranco Lupo e la Luca, ma anche la nuova e l'esplosione della professione, giustamente rappresentiamo i dati secchi, oggettivamente noi facciamo anche delle analisi, cioè sostanzialmente ci facciamo delle idee. Allora, anche la tavola rotonda è un luogo per maggiori analisi, al via del dato informazione, quindi anche dell'indicatore, cioè di quarto livello della guardia. Su questo abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di vostri punti di vista. Anche scontratoci, noi credo, nella proposta iniziale, che per tematismi, così come succede anche in presidenza del Consiglio, senza presidenza del Consiglio, o con presidenza del Consiglio, il sistema deve avere dei luoghi permanenti in cui ci incontriamo e ci confrontiamo, non convenistici, sui quali ci troviamo, benissimo, facciamo tutto quello che vogliamo, ma dei luoghi di lavoro. Io ho dentro l'ispo che erano, sono statuti, sono i tavoli strategici, i tavoli di coordinamento strategico, su tematismi ampi, ambienti e agricoltura, appunto il ciclo del carbonio, emissioni e processi di decarbonizzazione, cioè non tenendoli separati, ma legando di quattro uomini. Allora io credo che col nuovo sistema sarebbe opportuno con voi rappresentanza delle categorie, rappresentanza degli interessi di cui, rappresentanza delle idee, rappresentanza della comunità scientifica. Noi dobbiamo complementarizzare al più presto questo elemento con un elemento strategico, strutturato all'interno. Questa è la mia proposta, quindi per quanto riguarda i rifiuti, ho parlato chiaramente di tutti i suoi aspetti, sia rifiuti solidi urbani, sia rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, la mia proposta è di costituire come un professo un sistema nazionale, una protezione ambientale, a fianco al possibile, per me è sempre un consiglio federale, è un concorso, quindi vedo, levo, la visione positiva di un federale di un concorso, coordinato, una struttura che in qualche modo non si rappresenti sempre con tavole rotonda ma sia un luogo nel quale ci confrontiamo, interno e esterno. Ispra agenzie, d'accordo? Ispra agenzie e sostanzialmente, o agenzie ispra, a titolo un pochino, non mi ricorda quello che cos'è, cioè il sistema da una parte e dall'altra le categorie. Ecco, io ho introdotto così, questa tavola rotonda, lascio a voi, quindi, declinare come volete, numeri, dati, considerazioni che abbiamo fatto, io spero che mi siano date anche indicazioni, condesioni o altre cose rispetto a questi ultimi sei mesi del mio mandato, nel quale vorrei portare. Tenete conto che come ha detto Luca Marchesi, lo sottolineo anche a voi, ci dovete accompagnare. C'è un difetto, credo, in questa nostra Repubblica, che quelle si fanno le leggi, e poi non si fa in decrete a Platini, o il Padio, no? Quindi, giustamente il Parlamento fa il suo lavoro, o se vi proposte la governativa fa il suo lavoro, però poi non si va oltre. E allora dice che non esiste, il sistema non esiste, non esistono tutti i processi che possono mettere, che può smettere i piedi, ma è solo il mio mandato. Allora, noi abbiamo 180 giorni per portare a Riccini a quello che ha fatto i decreti della legge. Noi chiederemo una vigilanza, in questo momento ho chiesto, ma so se siete collegati, che ci sia una vigilanza sull'intempismo della decretazione. Noi, come ha detto Luca Marchesi, come sistema, ci stiamo già lavorando, abbiamo già lavorato ciletto, ne abbiamo già la proposta interna diretta. Siamo molto avanti nella lavorazione sul sistema, però abbiamo bisogno di voi dall'esterno, che chiediate che questo sia realizzato e formalizzato. Questo è un elemento importante, poi non ci potete dire che non ce la facciamo, ce la facciamo se non siamo accompagnati.